mi vedi una ho un bravo ragazzo ah Marco tu mi... mi vedi una ah mo mi vuoi bene aspetta tu si parla da sola si parla no 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 siamo con me stesso eh appunto si parla da sola no 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 grazie siamo grazie almeno ne metti almeno non rimango sta mi vedi che ti tuffiate ce la fai a camminare sti sudate e lo so ma a petti nudi e fa lo cal tu nisti a petti nudi fa lo cal ma io si che a petti nudi farò la casa a me fa lo cal mo spingi questo e ne ha appiccinato no 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 arvi da casa e te l'appiccio tutte e due no no quello se ti vede matto io no quello sai perché se ti vede matto l'amico mio si incazza no sai perché mi sono fatti il caffè eh allora ma dopo il caffè eh lo caffè a mezzanotte e mezza te li fai eh ma mia mamma aspetta ma grazie simo sei un bravo ragazzo ti voglio bene simo vedi che bravo se vuoi te paghi no che mi dà puo eh io tengo più di due non ne posso comprasse perché perché la macchinetta non la so usare ahhh tengo due ore e 32 ma non so usare la macchinetta ma ci esce ci esce la sigaretta 10 eh le camera eh 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 ma ne sa ciò quelle di una volta sono andato a mandarle alle 3 di notte mi sono fregato i 10.000 lire ma cosa c'è da 10.000 lire ma cosa c'è da 10.000 lire